Oh, finalmente posso iniziare il mio viaggio Pokémon, ho le idee chiarissime, nessuno mi fermerà, diventerò il campione della Lega, sgomminerò l'organizzazione malvagia di turno, nessuno potrà fermarmi, ho esattamente in mente tutto ciò che voglio fare Ehm, scusi professore, ma lo starter? Ma lo starter? Ehm, sì, allora, ok, allora, ok, va bene, allora, la prima palestra è, allora, la prima palestra è tipo roccia, quindi no, no, quella di fuoco, quindi, però quella dopo è di tipo acqua, quindi forse è meglio che, però dopo c'è quella di erba, cioè, e quella di erba, ah, vaffanculo Oh, che bello sia il mio starter preferito, ora lo difenderò fino alla morte contro tutti quegli stronzi che hanno preso Squirtle e Bulbasaur, merde Oh, che bello sia il mio il reciprocario Oh, che bello sia il nostro corso Mancato di più Grazie.